No, 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 mi metto a correre, la prego! No, non ce la faccio mica prenderla. Aspetti un secondo, una domanda sola. No, 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 la prego, non le corra di nuovo. Aspetti un attimo, solo una domanda su Benocchi, per favore. Aspetti un attimo. Casalino, per favore. Aspetti un attimo. I said the nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And the message coming from my eyes is leaving it all. Casalino corre molto bene, la nostra carrerina è stata sorpresa all'inizio, lo scatto. È sceso in tuta e scappa la ginnastica, quindi se l'aspettava, è intenuta da jogging. È sparito, velocissimo. Uno che ha fatto il giro di tutte le televisioni, non ne ha mancata una, per presentare un libro in quanto portavoce, per raccontare la sua storia. Vabbè, quello fa bene, ha fatto una grande avventura. No, va benissimo che fino a ieri comunque i giornalisti, non mi pare che li considerassero nemici, da oggi lui non risponde più, non ha neanche. L'educazione, Massimo, scusami, l'educazione, hai una collega, ti fermi a parlare, le dici scusami, guarda, su questo argomento io non so, parli. Mi ha mandato un messaggio sul telefonino, ha detto che è pronto a chiarire eventualmente delle cose, quindi noi aspettiamo. Tutti pronti, però non si vede mai nessuno.